Mi sono sposato con il Melinda in Brasile e noi sempre siamo venuti di famiglie cattoliche, tanto la sua come la mia. E così penso che la nostra testimonianza venga dalla nostra formazione. Più di altro, dal 1993 siamo ingressi al movimento Equipe Notre Dame in Brasile. E da quel tempo finora sempre abbiamo migliorato il nostro rapporto e la nostra fede. Noi abbiamo l'Equipe Notre Dame che è un movimento della Chiesa che lavora con giovani e principalmente con coppie cristiane, coppie matrimoni. Lavoriamo quasi tutti i nostri, lavorano nella pastorale familiare, lavoriamo con i fidanzati, lavoriamo con le coppie seconda unione e sempre cerchiamo di mostrargli che il matrimonio è veramente un sacramento. E speriamo anche noi che questo sinodo sia un altro passo nell'aggiornamento, nella modernità della Chiesa. Sempre non perdendo le radici con l'Evangelio, con Gesù Cristo, ma sempre camminando in aggiornamento.